ok, benvenuti alla terza parte abbiamo prima visto come installare VRChat prima di andare avanti controlliamo Show Control Panel nei settings vi suggerisco di togliere Future Proof Publish perché è diciamo disturbante nel senso che allunga i tempi poi di compilazione ho visto che in realtà sembra funzionare tutto probabilmente quando poi siete felici contenti, magari potreste desiderare di rimetterlo Content Manager vabbè, sono i modi che abbiamo fatto qui abbiamo la possibilità di fare Build and Test, però prima di fare Build and Test ci accertiamo che la nostra mesh abbia le collisioni quindi vogliamo far collidere sul pavimento e sulle quattro mure, quindi con Shift tengo premuti tutti i muri e aggiungo come componente Box Collider che è questo signore qua questo Box Collider praticamente vedete, vi fa vedere tutte le superfici che sono collidabili quindi praticamente questo ah no ah era l'Edit Collider che avevo premuto quindi Edit Collider vi fa vedere che praticamente sono dei cubi questo lo facciamo per per gestire le collisioni perché non sono implicite nel modello OBJ quindi il modello OBJ facendo così non funzionerebbe l'altra cosa che dobbiamo fare assolutamente qua dentro è di metterci dentro un VRC World adesso qui c'era già ma noi lo cerchiamo VRC World il VRC World blu lo prendiamo lo mettiamo dentro e lo mettiamo praticamente un po' dentro il nostro la nostra insomma mostra e vediamo di metterlo in modo tale che sia un pochino alto ma non troppo quindi per dire un metro e mezzo ok quindi poi nel caso lo abbassate se non vi piace vi ricordate di fare il save contro l'S della scena la scena è qua dentro dentro gli assets anzi sarà probabilmente dentro scenes qua è sample scene poi in realtà quando poi lo farete in maniera un pochino più organizzata gli darete poi tutti i nomi giusti adesso era solo per tenere rapido il video quindi una volta che avete tutto a posto quindi avete il VRC World avete le cose già fatte andate in VRChat CDK show control panel nel caso vi dicesse che mancano delle cose li cliccate quindi vi dirà manca questo manca quello clicca qua clicca qua clicca là fix quindi voi gli fate fare tutti i fix quando avete finito potete fare un test per vedere se funziona la vostra stanza quindi fate build and test facendo build and test lui dovrebbe produrre una versione in test lancia VRChat che dovrete avere già installato quindi in questo momento dovrebbe stare lavorando e lancia il VRChat quindi lanciando il VRChat è come se stesse entrando fisicamente nel mondo di VRChat e potete fare Go per entrare praticamente nella vostra stanza come vedete ecco posso muovere il mouse e posso con W andare a vedere se la stanza più o meno si comporta in maniera adeguata vedete che in realtà solo in questo momento ci si rende conto che ci sono delle zone non illuminate e quindi bisogna probabilmente mettere a posto le luci ma per il momento va bene così si vede il cielo quindi è abbastanza carino per uscire fate escape andate su settings e fate exit VRChat ecco la cosa che manca adesso è quella di pubblicarla pubblicarla per Windows sulla piattaforma in modo tale che potrete invitare delle persone quindi per farlo basta che fate build and publish for Windows e lui genera praticamente tutte le scene richieste e soprattutto a un certo punto farà l'upload su VRChat quindi dovete avere molta pazienza io la prima volta che l'ho fatto non avevo capito come funzionava quindi bisogna nominare il mondo quindi mon lisa 2 lo chiamo gli dovete mettere qua questo box e fate l'upload e quindi lui procederà a scaricare il vostro file su VRChat visto che non c'è il future dovrebbe impiegarci molto di meno ok quando ha finito vi fa vedere content successfully uploaded lo potete a questo punto lanciare via VRChat oppure anche se volete verificarlo velocemente anche con build and test si vede soprattutto ai fini del video vi faccio vedere che entrando in questa specie di semplificazione di VRChat però si vede anche come potrete fare voi per entrare una volta che siete in in VRChat perché solo vi fa entrare il test vi fa entrare direttamente in questa stanza ma se voi entrate con VRChat normale non entrate in questa stanza entrate in realtà da un'altra parte e andate poi su Worlds e poi qua dovete andare in basso sui My Worlds a un certo punto c'è un pezzo dice Mine qua e qui vedete che ho fatto Monalisa 2 e qui era Monalisa 1 che ho fatto la prova prima quindi Monalisa 2 se cliccate fate Go e dovreste entrare esattamente nello stesso posto quindi potete eventualmente invitare anche altre persone ok allora la cosa che manca adesso è soltanto fare la build per il per non per Windows ma per Oculus e qui c'è un trucchetto molto semplice che però io ci ho impiegato a settimana a impararlo quindi bisogna andare su file build settings fare il switch della piattaforma su Android quindi fate switch platform e qui ci impiegherai i suoi 5 minuti buoni pian pianino ecco io vi ho risparmiato i 5 minuti in cui si è switchato ricordate di fare questo switch da file e da build settings io erroneamente tutte queste operazioni le facevo da qui da show control panel perché c'era un switch build target to Android e pensavo che fosse sufficiente ora facendo così qui automaticamente sta pubblicando anche per Android quindi noi possiamo fare un build and publish for Android e facendo il build and publish for Android il mondo nonostante anche questo warning che vi dice che c'è una texture che non gli piace però dovrebbe andare a buon fine quindi fate questo e in un tempo ragionevole ecco dopo un po' di tempo vi ripresenta di nuovo questa stessa finestra potete fare il click qua fare upload e quindi avere di nuovo l'upload ecco direi che alla fine di questo è a posto manager world in browser vi fa vedere i vostri mondi che è questo in teoria da qualche parte dovrebbe essere scritto se è per per windows o meno ma comunque ho fatto le prove oggi e sono riuscito ad entrarci senza problemi quindi per direi che è tutto e niente fatemi sapere se ci sono dei problemi